Facciamo un esempio che farò ripetutamente nel corso, sia in un contesto di meccanica che in un contesto di elettromagnetismo. Il contesto è questo, nella versione meccanica è quello di, immaginate dunque la verticale cos'è? La verticale è la direzione lungo la quale i corpi cadono se li lasciate andare da fermi, voi tenete questo gesto da fermo, tenete fermo nell'istante che decidete lasciatela presa senza imprimere alcuna velocità. E' chiaro che se io imprimo una velocità, che so in questa velocità è un vettore, no? Se io imprimo una velocità così, è ovvio che lui farà una parabola. Se invece non imprimo alcuna velocità, lui segue la verticale, ok? Quindi la verticale è la direzione lungo la quale i corpi cadono se li lasciate da semplicemente cadere senza imprimere alcuna velocità. Allora immaginate la caduta di un grave, si dice così, poi faremo meglio, questa è un'anticipazione, è un discorso cinematico. La caduta di un grave, non caduta grave, la caduta di un grave, poi se grave è un essere umano farà anche una caduta grave, no? E la caduta di un grave, e facciamo il caso semplice che cada da fermo, cioè non imprimete alcuna velocità iniziale, la velocità iniziale è zero. Quindi seguirà la verticale. Quindi chiamiamo questa la verticale e sarà un moto rettilineo. La traiettoria sarà una retta. La legge oraria non è uniforme. La legge oraria sarà vario, ma il moto è lungo una retta. Qua ci sia un fluido, questo esempio lo faremo di nuovo, questo è molto preliminare. Quindi il corpo nel cadere verso il centro della terra, soggetto alla forza peso, dovrà farsi strada in mezzo al fluido. E io asserisco, facciamo questo caso qua, sarà un moto rettilineo, quindi non userò la notazione vettoriale. Quindi io l'altro giorno vi ho un po' spaventato con un buon motivo di farlo, in cui io dico che se voi scrivete così io vi farò delle domande. Cosa intendete? Se il contesto è un contesto tridimensionale o bidimensionale, allora questo vorrà dire il modo velocità, cioè questo. Se invece è un contesto di moto lineare, in effetti la notazione vettoriale è un po' eccessiva, non vi pare? perché basta che io ruoti gli assi, in modo che il moto avvenga lungo uno degli assi, per esempio l'asse x, la coordinata y e la coordinata z non entrano nell'esercizio e quindi di fatto tutto avviene nella direzione x, cosa me ne frega di fare la freccia. Quindi diventerà chiaro dal contesto che senza la freccia io sto immaginando che questo corpo si muove lungo la retta, quindi la grandezza non userò la notazione vettoriale, però sarà un vettore, nel senso che questo avrà un segno algebrico, quindi se è positivo vorrà dire che al passare del tempo la coordinata x aumenta, se è negativo vuol dire che cosa? Potete pensare, cos'è una velocità? Un rapporto incrementale, d'accordo? Quindi se la velocità è negativa vuol dire che al aumentare del tempo la coordinata x sta diminuendo, d'accordo? Quindi in un contesto lineare, silenzio, silenzio, perché queste cose poi non le darò più e vedremo come verrà cavata un orale, in un contesto di moto lineare senza usare la freccia io dirò questo è un vettore, avrà un segno algebrico, è positivo se la velocità è nella direzione che io chiamo x positivi, sarà negativo se è nella direzione degli x negativi, direzione opposta al positivo. Quindi qual è la direzione positiva? Visto che questa è l'asse lungo la quale il corpo si muove, visto che io la lascio andare e va di là, ci viene naturale mettere la freccia qui, quindi questa la chiamiamo se volete l'asse x e l'asse x diventa verso il basso, quindi questa diventerà la derivata di x in funzione del tempo, quindi se questo oggetto se dovesse risultare positivo vuol dire che al passare del tempo la x sta aumentando, cioè sta andando verso il basso, come le cose fanno quando io li lascio da ferme, è evidente che se io la lanciavo verso l'alto per un tratto della traiettoria lui in effetti aveva una velocità verso l'alto, se lo lascio da fermo le velocità saranno positive. Supponete quindi, quindi io in questo contesto userò la notazione semplificata perchè è un moto unidimensionale, sarà chiaro nel contesto che non intendo lo scalare, intendo il vettore, quindi dovete capire cosa sta succedendo. Quindi io vi dico che l'accelerazione sarà funzione del tempo e io vi sto per dare l'accelerazione. Immaginate che l'accelerazione sia una costante, la scrivo poi la commentiamo. Quindi guardate questa funzione. Le funzioni trascendenti, coseno, seno, tangente, logaritmo, base 10 o base naturale, o la funzione esponente, sono adimensionali. Non dimenticatelo mai. Per esempio il coseno cos'è? Un cerchio unitario? Cos'è? Pensate al famoso triangolo che voi avete dalla prima elementare. Lato A, lato B, lato C. Cos'è il coseno di un angolo? È adimensionale perchè avete una lunghezza diviso una lunghezza. la tangente, una lunghezza diviso una catena. Sono funzioni adimensionali. Quindi se questa cosa ha la pretesa di essere un'accelerazione, da dove prende le dimensioni dell'accelerazione? La prende da qua, non la prende da qua. Quindi se questi sono metri al secondo al secondo, questo deve avere metri al secondo al secondo. Infatti la rotazione mi sta dicendo che questa è l'accelerazione iniziale perchè quando t uguale a 0, l'esponente vale 0 e a 0 vale 1 e quindi l'accelerazione per t uguale a 0 è proprio a 0. Quindi l'uso di questa notazione è un aiuto a voi per capire subito cosa sta succedendo. Questa è l'accelerazione iniziale. Però al passare del tempo l'accelerazione diminuisce, in modulo dell'accelerazione se volete, l'accelerazione diminuisce esponenzialmente. Quindi il grafico di questa funzione è questa qua. In funzione del tempo l'accelerazione parte dal valore iniziale a 0 e muore esponenzialmente, ok? Allora questo è un grafico che faremo 3, forse anche 4 volte nel corso. Lo faccio già la prima volta perchè così quando si arriva all'orale chi non lo sa fare lo mando via senza esitare. Proprio perchè fa parte di un bagaglio costante. Allora guardate un attimo. Guardate l'esponente. L'esponente è adimensionale. Gli argomenti delle funzioni trascendenti sono adimensionali. L'argomento coseno di teta non solo è coseno adimensionale ma anche teta lo è. perché coseno è un angolo è il rapporto tra un arco e una lunghezza d'arco e il raggio del cerco che avete usato per fare quell'arco. Quindi l'angolo è adimensionale, il coseno è adimensionale. In generale per una funzione trascendente coseni, seni, tangente, logaritmo, esponente la funzione è adimensionale e l'argomento è adimensionale. Quindi se questo ha la partenza di essere un tempo, questa roba qua che dimensioni ha? B diviso M ha le dimensioni di un tempo alla meno uno. Cioè M diviso B ha le dimensioni di un tempo. Perchè? Voi dovete chiedervi che dimensioni deve avere B diviso M affinché moltiplicandolo per un tempo e poi dovete avere qualcosa che abbia dimensione nulla. Quindi è evidente che la dimensione di M diviso B è un tempo. Quindi chiamiamo questa combinazione M diviso B. Questi sono dei parametri di questo esercizio fisico. Per il momento questa è cinematica, non è ancora fisica. Però lo diventerà rapidamente. M sarà la massa del grave. B sarà qualcosa che caratterizza il fluido attraverso il quale questa massa deve muotare per cadere. E siccome questa è l'accelerazione iniziale e siccome qua è implicito che c'è il pianeta Terra che fa cadere le cose, chiamiamo questo con il suo simbolo del corso vero e proprio, sarà G. La famosa costante di accelerazione di caduta libera. Libera vuol dire due cose. Si che lasciate la presa ma anche che non cerca un fluido. Quindi questo è un esercizio di cinematica e di matematica. Quindi questa combinazione M diviso B che è un tempo, è un tempo molto speciale per questo esercizio. E la indichiamo con il simbolo tau. Si chiamerà il tempo caratteristico del fenomeno. Perchè dico questo? Perchè guardate questa cosa qua. E una E, qui sto scrivendo così, è uguale all'accelerazione iniziale, a zero, io la chiamerò G, per E alla meno T diviso tau, dove tau è uguale a M diviso B. Perchè chiamo quel tau tempo caratteristico? Perchè io posso pensare di mettere lungo l'asse dei tempi delle tacche. Un tau, due tau, tre tau. Quindi chiamo questo un tau, chiamo questo un'altra tacca tau, un'altra tacca tau. Ok? Addirittura ho messo 4, quindi questo è un tau, due tau, tre tau, quattro tau. Quindi sull'asse dei tempi metto delle tacche. Guardate cosa succede. Quando T è uguale a 1 tau, quanto vale l'accelerazione? Cioè dov'è il punto? Quindi questo è il valore iniziale che abbiamo deciso di chiamarlo G. Quando T vale zero, l'accelerazione è questo. Quando T è uguale a 1 tau, quanto vale l'accelerazione? Quindi quando T è uguale a 1 tau, l'accelerazione per T uguale a 1 tau è uguale a G, il valore è a zero, per E alla meno T diviso, scusatemi, a 1 tau diviso 1 tau. Perché sto scegliendo di mettere T uguale a 1 tau, cioè è uguale a G, E alla meno 1. Cioè questo è uguale a G che moltiplica 1 su E. Quanto vale l'accelerazione quando T uguale a 2 tau? Silenzio per cortesia. Se no vengo qua, appesantisco questo con qualcosa di accuminato e riprendo la mia abilità che avevo a 10 anni di tirare lance con una precisione notevole. Il problema è che devo localizzare la persona perché non vorrei uccidere un'innocente. Danni collaterali. Allora scrivo qua. A, T uguale a 2 tau. Annaggia a me. Cosa ho oggi? 2 tau. Questo è uguale a G per E alla meno 2. Siete d'accordo? Cioè questo è uguale a G 1 su E per 1 su E. O se volete questo è uguale a una volta su E il valore che aveva quando T uguale a 1 tau. Quindi questo è uguale a 1 su E per quando A era nell'istante iniziale. Guardate, no? Questo è G per 1 su E. Quando c'è 1 tau, prendo 1 su E che moltiplica il valore iniziale. A 2 tau è 1 su E per il valore a 1 tau. Cioè 1 su E al quadrato del valore iniziale. Quanto sarà a 3 tau? Sarà 1 su E del valore a 2 tau. Cioè ogni istante tau, ogni intervallo tau, il valore di A è 1 su E del valore che aveva nella tacca precedente. Lo vedete? Io riesco a fare un disegno sistematico di cui ogni tacca è 1 su E del valore precedente. E' chiaro a tutti? Cos'è E? Uno studente di ingegneria dovrebbe sapere che il numero di Nepero è 2, virgola, questo di nuovo, io dico virgola ma scrivo il punto decimale. E' 2,7, 1,8. Ogni studente dovrebbe sapere almeno questo. Chi non lo sa? E' brutto eh? Pi greco? Quindi è uno dei numeri che io so meglio personalmente. Perché ho notato una, come si dice in italiano, pattern. Qualcuno di voi sa l'inglese? Ci sono alcuni di voi che magari hanno genitori o nonni che erano in America e poi soltanto in Italia. Ogni anno c'è qualcuno che parla molto bene perché o ha vissuto o il papà ha vissuto. Pattern, come si dice in italiano, mi sta sfuggendo la parola. Schema forse. Un pattern è uno schema. C'è uno schema, come io me lo ricordo, è 2,7, poi 18,28. Si ripete 18,28, poi fa 45,90,45. E poi altri numeri che assolutamente in questo momento non me ne ricordo. Però sono un casino di cifre, molto più di quello che può servire nella vita professionale. Mia e anche vostra. Però io l'ho notato che 18,28 si ripete. E poi c'è come un triangolo rettangolo isoscere. 45 gradi, 90 gradi, 45 gradi. Me lo sono memorizzato così all'età di 17 anni. Però io mi auguro che voi lo sappiate fino a qua. Fino a tre cifre dopo la virgola. Il pre greco, io non me lo ricordo, io lo so solo a cinque cifre dopo la virgola. Il pre greco è tre, quattordici, quindici, nove, poi non me lo ricordo. Mio figlio per qualche modo l'ho portato a vedere la vita di P. Chi l'ha visto? Qualcuno l'ha visto? Oltre ad aver sentito menzionare il film, prendetelo su DVD, downloadatelo, fate quello che volete. Andate a vedere questo film. Al cinema è stupidoso. È una bellissima storia. Il bello di questa storia è che questo ragazzo, che il suo papà era un nuotatore amatoriale. e ogni volta che girava per il mondo, in una città dove andava, andava a nuotare nella piscina principale della città. Va a Parigi e vede la bellissima Parigi, e le bellissime donne, perché è un indiano il protagonista, il papà quindi era indiano, e vede la piscina e chiama, siccome piscine è una parola che piaceva molto, chiama il proprio figlio piscine. E nel film, quando il bambino va a scuola, i compagni lo prendono in giro a piscione, piscione, piscione. E lui un giorno, forse in terza metà, dice quest'anno quando vado e il professore chiede a ogni studente ad alzarsi e presentarsi alla classe, lui si alza e dice mio nome è Piscine, ma tutti mi chiamano P. Cos'è P? E comincia a scrivere, P greco, e comincia a scrivere, e passa per lo studente bravo in matematica. E la scena dopo vede i compagni che stanno incoraggiandolo a riempire un casino di laragne, con pi greco, con centinaia di cifre, e tutti la collibora a controllare dai dai, il tifono per lui. A mio figlio l'ho portato a vederlo, e gli ho stampato pi greco, e sulla lavagna, e sul frigorifero tenuto in posizione con dei magneti, e lui sa già 25 cifre dopo. C'era assolutamente un cazzo? forse la possibilità della matematica si accende al concursivo. Io avevo un amico che sapeva fino a 60 cifre, e gli ho detto ma cosa te ne fai? E ha studiato matematica. Comunque non stiamo parlando di P greco, stiamo parlando di P greco, è un numero irrazionale, come lo è anche P greco, e questa è una cosa che spero accenda l'immaginazione del mio figlio, che il numero, infatti lui ha detto ma sembrano a caso. Quindi non c'è nessuna sequenza che si ripete, non c'è nessun schema, quindi ha già notato ma sembrano a caso. Allora, facciamo una cosa, io adesso, io non sarò mai sulla mia tomba, non apparirà mai una formula, come sulla formula di Eulero, cosa c'è scritto? Sulla lapide Eulero c'è scritto E alla I, phi greco più 1 vale 0, su Boltzmann c'è che l'etropia è uguale a K, per fare il logaritmo naturale di Omega, penso che nessuno di noi è probabile che, forse, mi auguro che qualcuno di voi avrà una bella formula di matematica sulla lapide, che i poster vi si ricordano di voi. Allora, io invento qua un numero che si chiama il numero di Wyss, e il numero di Wyss vale 2, 2. Allora, supponiamo che la formula fosse questa. Cosa fareste? Il grafico sarebbe estremamente semplice. e io sono molto serio, quindi state attenti, perchè voi dovete essere grandi a fare questo disegno all'orale. quando T vale 0, la funzione vale qua, A0, G, ok? Alla prima tacca quanto vale? E alla meno 1, perchè quando T è uguale a 1 tau, questo sarebbe E alla meno 1. E Wyss però. Quindi E Wyss alla meno 1 è 1 su 2. Quindi dopo un tau, questo vale meno 1, quindi E è 2 alla meno 1, cioè metà. Quindi dopo un tau, questo è esattamente la metà del valore dell'attacca precedente, cioè T uguale a 0. Quando T è uguale a 2 tau, allora ho A, T uguale a 2 tau, è uguale al valore iniziale G, 1 su E Wyss per 1 su E Wyss. Quindi è metà della metà, giusto? Quindi qua, dopo 3 tau è metà della metà della metà, ok? Dopo 4 tau, vi vedete che io riesco a disegnare sistematicamente la funzione. Ecco che questo tau, ecco perchè si chiama tempo caratteristico, perchè caratterizza il passare del tempo. E' l'unità di misura, se volete, naturale di questa legge oraria. Perchè con questa tacca, perchè magari i secondi sono questi. A chi se ne fregano i secondi? Questa tacca è quella che ha più senso usare. E' quella che è l'unità di misura più naturale per descrivere il costantamento. Perchè al passare di tot secondi avrò un dimezzamento. Al passare di un altro tot secondi avrò un ulteriore dimezzamento. Un mezzo per un mezzo. Qua è metà, metà di questa, metà di questo, che è 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 metà di questo. Il tempo è caratteristico. Ma questo non è il numero di mis, questo è il numero di nepero. Quindi, è 1 su e, è 1 su 2,718. E questo qua, è circa, cos'è secondo voi? Quando è uguale a 2, questo è 0,5. Ma il denominatore è più grande, quindi è più piccolo di 0,5. Giusto? Ed è circa, questo è un numero che non so a memoria. Questo è un numero che non so altre cifre. Perchè? Perchè non mi serve. Quante cifre so? 7,1,8,2,8,1,8,2,8,4,5. Un casino di cifre! Quindi io metto una caratteristica e faccio l'inverso, no? Ok? È circa il 36%. Quindi io, nel vero grafico, qui, se questo è il 50%, il 10% è qua, il 20% è qua, il 30%, 40%, forse devo stare nell'attacca un po'. 10, 20, 30, 40%, quindi io devo andare al 36% del valore iniziale. Quindi questo è 10, 20, 30, sarà circa qua. Dopo 2 tau, devo andare al 36% di quello. Quindi, tiro la linea così, questo la divido in 10 parti, quindi in metà è qua, 10 è qua, 20, 30, 40, sarà circa qui. Perché questo è il 36% di questo, questo è il 36% di quello. Cosa sarà qua? È il 36% di questo, quindi dovete individuare la vostra, e poi cercare, quello è circa metà, sarà qui. Ok? E quindi, come vedete, con il vero numero di nepero, ho un andamento che va, che assintoticamente va a 0, che è più ripido di questo, perché questo va giù più gradualmente. Questo è quis, vale 2, n per 0, è 2, 7, 1, 8, 2, 8, eccetera. S'accordo? Tempo caratteristico, perché caratterizza l'andamento, va bene? Un sacco di belle cose qua, un'anticipazione di fisica, ma nelle matematiche è più il momento. Anche se la fisica c'è, perché questo è un tempo, tutto questo deve essere un tempo da meno 1. Però, se questa è la massa, e dobbiamo ancora dire cos'è la massa, shhh, dobbiamo ancora dire cos'è la massa. che dimensioni è a B, che dimensioni è a B, quindi le dimensioni di B sono quelle di una massa diviso un tempo. Siete d'accordo? Ok? Quindi nel sistema internazionale, questa è un'accelerazione e sarà espressa in metri al secondo al secondo. M sarà espressa in chilogrammi, B sarà espressa in chilogrammi al secondo. Ok? Va bene? Allora, questa è l'accelerazione. Calcolare la velocità, sapendo che la velocità iniziale vale v0. Qual è la velocità nell'istante t? E' la velocità nell'istante iniziale, più l'integrale dell'accelerazione. Vi faccio un po' di spazio. più l'integrale nel tempo, metto l'apice dell'accelerazione pensata come funzione del tempo, dall'istante iniziale all'istante che mi interessa. Quindi, vi raccomando, questo è l'istante iniziale. Cosa intendo per v0? Intendo il valore della velocità quando t vale 0. Ok? Quindi, usate la notazione, ma l'importante è che sia sempre chiaro cosa state facendo. Quindi, questa è la formula generale, che ripeto, come l'ho detto stamattina, è l'espressione integrale di questo legame qua, che la velocità è la derivata, scusatemi, che l'accelerazione è la derivata della velocità all'istante. Cioè, questa espressione e quella sono legati alla teorema informantale dell'analisi. Quindi, prendete questa accelerazione e la spartete qua. Questa, ho un terribile torcicollo, ma non posso farci niente, non ho paracetemolo con me, qualcuno ce l'ha per caso? metto tau, no, mettiamo b diviso m, va così, è un buon esercizio di analisi. Questa è un apice, è chiaro? Sapete fare questo integrale? Come no? Di nuovo, l'integrando è questa roba qua. Fate un cambiamento di variabile. Intanto la g è una costante, che non dipende dalla variabile tempo. Quindi, qual è il teorema? Che l'integrale di una funzione moltiplicata per una costante è uguale alla costante che moltiplica l'integrale. Teorema banale, perché l'integrale cos'è? E' essenzialmente l'area di rettangoli. Quindi, se voi prendete un rettangolo alto f largo delta x e moltiplicato f per 3, è fatto un rettangolo che è tre volte più alto. E' banale. Quindi, questo ovviamente esce fuori, la g esce fuori, scrivo qua, un zero, più g, è l'integrale di e al meno b diviso m t, mettiamo gli apici, quindi io sto integrando su t primo, da t primo, da t primo uguale a zero, a t primo uguale a t finale, che è quello che mi interessa. Cioè questo qui. Ok? Adesso faccio cosa? Faccio un cambiamento di variabile. chiamo meno b diviso m t, la chiamo, t primo se volete, la chiamo, che so, y. Non la chiamo x, perché x sarà poi la coordinata x di questa caduta del grave. la chiamo z, y, fate quello che volete. Se faccio così, allora, qual è il differenziale? Perché qua appare il differenziale dt, appare la larghezza, cioè io sto integrando nel tempo, appare la larghezza infinitesima dell'intervallo su cui sto integrando, perché sto prendendo l'intervallo e dividendo in tanti segmenti, delta t. Poi penso a questi delta t, a questi segmenti molto numerosi, ognuno molto piccolo, e faccio il limite di fare segmentazioni sempre più fini con segmenti sempre più fini, sempre più numerosi e sempre più fini, quindi quel delta t diventa un differenziale, è un dt. Allora, qual è il differenziale qua? Io posso fare così, posso moltiplicare per m e dividere per b e potrà anche il segno meno, quindi ho t primo uguale a meno m diviso b y, semplicemente ribaltato. Quindi questo differenziale qua, quando faccio il differenziale qui cos'è? Questo è meno m diviso b per il differenziale degli y. di queste cose dovreste saperle. Quindi il mio integrale adesso, lo scrivo qua, quindi il risultato poi lo prenderemo dopo, vediamo il problema matematico, quindi e alla meno b diviso m t primo, dt primo, con questa posizione qui, è uguale a meno m diviso b di y, ovvero che dt primo è uguale a meno m diviso b di y, con quella sostituzione della variabile, l'integrale diventa e alla y, la dt è questa roba qua, quindi, ok? E gli estremi adesso devo curare, gli estremi devo curare, questo è il valore di y quando t è uguale a zero. Qual è il valore di y quando t è uguale a zero? Siccome y è uguale a meno b diviso m per t, quando t vale zero, y vale zero, questo è banale. E questo è il valore di y quando t è quello che è, quindi questa sarà la y generica data da questa formula, cioè se mettete il valore di t avrete il valore di y, quindi questo se volete è l'estremo associato a questo, questo è l'estremo associato a questo, e l'associazione in questo caso è banale perché è proprio dato da questo riquadro qua. Avete capito cosa sto facendo? C'è qualcuno che non ha capito, mi blocchi subito, mi faccia la domanda subito, professore non ho capito il cazzo fa, nessuno mi blocca, bene, vuol dire che avete fatto l'analisi. A questo punto questo cos'è? Qual è la funzione che derivandola da e alla y? Quindi questo è meno m diviso b, poi lo moltiplico per quella famosa f calcolata in y, meno f calcolata in zero, no? Questo è il teorema dell'analisi dove questa f deve avere la proprietà che la derivata di f rispetto a x deve essere uguale a e alla x. o in questo caso visto che sto facendo y è meglio non fare confusione con i... Quindi io sto cercando la funzione f maiuscolo, tale che derivandola vi dia e alla y, integrando. Allora dovete sapere che e alla x, cioè la... è per definizione la funzione che ha questa equivalente proprietà, che è uguale alla sua derivata. Quindi questo qui, la f, è proprio e alla y. La funzione esponente è, con base al numero di nepero, e alla x è una funzione estremamente figa. e alla x ha questa incapacità che d, la derivata, è proprio e alla x. dovreste anche sapere che l'integrale da meno infinito a x di lx vale lx. Quindi se questa è la funzione lx quando x vale 0, la funzione vale 1. Qua va su così, vabbè ho mancato la 1. In qualsiasi punto la pendenza della retta tangente è proprio uguale alla funzione stessa. E' veramente notevole. E l'area da meno infinito fino al punto x è proprio la funzione stessa. E' veramente notevole. E c'è una famosa barzelletta delle funzioni che organizzano una festa. il sabato sera. Allora, sono tutti la che stanno ballando. C'è la funzione, vabbè, la retta, la funzione costante che è proprio la sua strada. C'è il coseno e il seno che si stanno dimenando. Sono i polinomi di vario grado che stanno facendo anche le loro curve. e tutti stanno divertendo un matto, tranne poi una delle funzioni note, che all'angolino c'è la funzione esponenziale, seduta su una sedia, che è un avviso molto triste. E allora alcune delle funzioni vanno su a lei e dicono dai vieni divertiti, dai integrati! no? No, non cambierebbe nulla! e quindi qua ho la F maiuscolo, silenzio, l'ho cancellato se lo scrivo, ho la F maiuscolo, calcolato in Y, meno la F maiuscolo calcolato in 0, cioè, visto che la F è proprio la E alla Y, questo qui, ma mi riprendo qua, è uguale a meno M diviso B per F calcolato in Y, cioè, E alla Y, meno F calcolato in 0, cioè quando Y vale 0, la F vale 1. Silenzio! e se uno fa il B è riuscissimo è un argomento, Ah, riesco a picchiare anche gli studenti più in avanti se attacco la prolunga. e se per voi ho fatto cose semplici, quindi la velocità e' uguale alla velocità iniziale più, Mican che int 75 e Q, attenzione, adesso cos'era Y? y era meno b diviso mt quindi scriviamola con tutta la sua gloria questo pezzo poi la aggiungiamo qua giù e meno m diviso b e alla y e y è meno b diviso mt meno 1 ok? questa è questa forma qua, questo pezzo qua metto i pezzi assieme e lo scrivo guardate, è v0 più g che moltiplica quella roba la, vedete che c'è il segno meno? ok? quindi questo diventa meno meno mg diviso b che moltiplica e alla meno b diviso mt meno 1 questa è la velocità del tempo ok? lascio a voi questo era la velocità in un istante generico sapendo che l'accelerazione è questa e sapendo la velocità iniziale cioè la velocità in qualsiasi istante cos'è? è quella iniziale più l'integrale l'integrale l'abbiamo calcolato lascio a voi mancano 10 minuti quindi avendo questa velocità dire qual è la x la x in questo tempo sarà il valore iniziale quindi lui è qui nella posizione x0 immaginate qua su c'è x uguale a 0 è in questa posizione a una velocità iniziale v0 dove si troverà? sapendo che nell'istante qui ha la velocità v0 e che al passare del tempo la velocità è quella cosa farebbe? x nell'istante t uguale a quello che era l'inizio più l'integrale e lascio a voi fare il calcolo quindi prendete questa cosa qua e la sbattete qui fatelo! perché ve lo farò fare ho uno scritto onorale con dei valori numerici no? questo b questo b qua si chiamerà coefficiente b attrito viscoso questo sarà la massa questa sarà l'accelerazione di caduta libera in assenza di fluido quindi magari questo sulla terra vale 9,8 metri al secondo al secondo avete un corpo di mezzo chilo 5 etti e il coefficiente di attrito viscoso vale 4 cosa abbiamo visto prima avrà delle dimensioni no? cos'è? 4 qualcosa e voi dovete calcolare dopo quanti secondi sarà tot per cento della velocità finale perché guardate cosa succede facciamo il grafico di questo anzi facciamo una versione semplice dell'esercizio che sarà il tormentone perché ne faremo due quando discuteremo la caduta di un grave con la legge di Newton proprio faremo fisica e poi nel corso dell'elettromagnetismo dove parleremo di circuiti magari un circuito RC o un circuito RL e uno vuole sapere come varia la carica del condensatore quando chiude l'interruttore il condensatore si carica o con quale corrente arriverà a circolare in un circuito dove c'è un'induttanza qual'è il grafico? ve lo ricordate? quelli che l'hanno fatto? allora guardate questa formula qua e facciamo il caso semplice che la particella parta da fermo quindi questo esercizio parte da fermo quindi inizialmente la velocità vale 0 quindi velocità quindi partendo da fermo partendo da fermo la velocità iniziale vale 0 quindi la velocità in funzione del tempo questo non c'è e questo mg diviso b 1 meno e alla meno b diviso mt perché questo è 0 e poi ribaldo questo meno e questo meno fanno diversiato più lo vedete? che aspetto ha questo grafico? dovreste essere in grado di disegnarlo ormai sarebbe molto semplice farlo se fosse il numero di wish quello la e non il numero di nepero quindi il grafico è questo in funzione del tempo la velocità è 0 inizialmente e parte da fermo questa è la direzione della velocità positive quindi cosa vuol dire? il corpo sta scendendo acquistando velocità e qual è quel grafico? questo è un assintoto perché è un 1 meno e alla meno t diviso tau con tau uguale a m diviso b moltiplicato per mg diviso b quindi questo qui la chiamerò la velocità al limite perché? perché al variare del tempo all'aumentare del tempo cosa succede? che questo qui per t che vale 1 tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau, 5 tau è sempre 1 su e, 1 per 1 su e, 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 1 questo è tau, questo è 2 tau, 3 tau, 4 tau, prima disegno la funzione decrescente, disegno questo, disegno questo, che è il secondo pezzo, cos'è? Quando t uguale 0 è l'a, quindi questo assintoto è proprio m g diviso b, quando t uguale a 1 tau, questo deve scendere al 36%, 50% è qua, 25% è là, meglio fare 10, ci siamo capiti? è circa qua, è troppo basso, questo è il 50%, stavo sbagliando il fattore 2, questo è il 5, stavo facendo un 10 qua, invece questo è 10, 20, 30, 40, 36% è qua, ok? Stavo facendo così, dopo un altro tau, devo andare al 36% di questo valore, quindi 50 è qua, 36 sarà circa qua, poi qua devo andare al 36 di questo, sarà circa qui, ok? Questo che ho tracciato è questa funzione, ma qual è la velocità? È questa, cioè è questa, la velocità limite che moltiplica 1 meno, quindi quando t è uguale a 1 tau, cambio il colore del gesso, questo è 1 meno questo, 1 meno questo, quindi è questa roba qua, giusto? qua è tutto questo meno quello, quindi è questa roba qua, qui è tutto questo meno quello, quindi è questo qui, quindi la funzione sta facendo così, è un 1 meno un esponiziale decrescente, quindi cosa succede? che lui parte da fermo, e acquista velocità, acquista velocità, però, a un certo momento la tendenza è di acquistare sempre meno velocità, e la velocità di assestarsi ha un valore, chiamiamolo velocità di regime, un assitoto, se io aspetto abbastanza tempo, la velocità si è assestata, se io vi chiedo qua fuori l'accelerazione quant'è? È molto piccola, perché cos'è l'accelerazione? È la derivata della funzione, e cos'è la derivata? Pensate che è una specie di pendenza, e quindi il fatto che qua la curva pende sempre meno, vi dovrebbe dire, a valle di aver capito un po' di cinematiche, che qua fuori l'accelerazione sta tendendo a 0, infatti qui è proprio quello che succede, no? Parte da un valore g, e muore, muore esponenzialmente, e quindi è proprio così la funzione, c'è lo stesso tau, tac, 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 e quindi qua è lo stesso grafico, vedete che l'accelerazione sta tendendo a 0, cioè la pendenza della velocità sta tendendo a 0, qual'è il valore dove la velocità è massima? Ovviamente è all'infinito, a 0, ma qual'è, quando è che l'accelerazione è massima? A 0, e qua l'accelerazione è massima, cioè è qui che la pendenza, la faccio in giallo la pendenza, è qui che la pendenza è il valore massimo, questo, anzi se vi è stato caso di fare questo in giallo, la pendenza di questo segmento qui è il valore più pendente, è la retta tangente più pendente che c'è, perché qui la retta tangente è meno pendente, infatti avete un valore, qua la retta tangente praticamente ha pendenza 0, lo vedete? Ok? Facciamo una breve pausa, queste cose, due secondi prima della pausa, quindi quando io mi lancio da un edificio e mi lascio cadere, mi lascio cadere, sono un suicida, mi lascio cadere, in presenza di un fluido, in presenza di aria o di liquido o un fluido, se il fluido ha caratteristiche particolari, il fenomeno sarà questo, io parto dalla velocità iniziale, la forza di cavità mi fa accelerare sempre di più, acquisto velocità, ma l'aumento della mia velocità è sempre più piccolo al passare del tempo, finché non arriva una velocità costante, che è la velocità limite del mio corpo in quel fluido, il motivo per cui la gente ha inventato il paracadute è perché, benché quando voi saltate da un aereo la vostra velocità cresce, cresce Gage Bound, a un certo momento non cresce più, ahimè, quella velocità è comunque troppo alta per sopravvivere all'impatto col suolo, quindi lo scopo del paracadute è di aumentare cosa, secondo voi? Quale parametro sto aumentando? E' B! E' B! Aumentando B... B è il denominatore, la velocità a cui arrivo è Mg diviso B, aumentando B cosa succede alla velocità limite? Scende! E quindi il nuovo sinteto magari è questo, certo che avrà un nuovo tau, perché tau cos'è? tau è l'unità di tempo con cui io riesco a costruire il grafico quindi magari qua lui arriva subito, arriva subito qua al valore assintotico, qua prima di arrivare a questo, questo magari si arriva qua però arriva a un valore assintotico che per fortuna riesco a sopravvivere all'impatto, qua invece muoio, il paracadute mi fa arrivare alla velocità limite più velocemente, nel senso che arrivo a non accelerare più prima, e la velocità a cui arrivo è tale che riesco a sopravvivere all'impatto, quindi se vuoi da una certa altezza e mi raccomando, qua sotto c'è già il concetto di massa, tra l'altro, cosa succede quando colpite il suolo, perché è un topolino che supponiamo, non voglio dire top, facciamo pausa, basta, pausa